Mi voglio complimentare con gli organizzatori che ripropongono un periodo difficile nella storia dell'Italia a un paese che dimentica facilmente. Quest'anno celebriamo il 150esimo dell'Unità d'Italia, ma questo paese è nato 150 anni fa con un compromesso tra le diverse componenti risorgimentali che non affrontava la questione sociale, che la rimandava come uno dei problemi da affrontare dopo. E poi, dopo, classi dirigenti insipienti non seppero affrontarla e risolverla. Anzi, nella lunga storia d'Italia, le lotte del lavoro sono state considerate lotte sovversive, nelle quali fa schierare il gendarme a fianco dell'agrario, del crumiro, dell'industriale, che sparava contro i braccianti, contro i miratori, contro gli operai. Si parla molto con scandalo della Libia, questo è il paese nel quale Umberto I fece sparare col cannone in piazza del Duomo a Milano contro gli operai che protestavano per l'aumento del prezzo del pane. E nonostante tentativi parziali di ripristinare una logica democratica, un compromesso democratico come negli altri paesi europei, attuati soprattutto al primo del Novecento, questo paese con una democrazia così squilibrata è precipitato nel fascismo, nella tragedia più terribile, la guerra al fianco dei nazisti. E quando il popolo italiano, comprese la fine del 1942 che la guerra era persa, si interrogarono in molti come uscì dalla tragedia. Ma non si mosse nessuno, si mosse gli operai, delle grandi fabbriche di Torino, di Milano, di Genova, quegli antichi sovversivi contro il quale il gendarme era abituato a sparare, assunsero una funzione nazionale importante e con i loro lotti avviarono le prime crepe fondamentali che portarono poi, dopo lo sbarco degli angloamericani, al 25 luglio del 1943, all'8 settembre, alla Resistenza, all'insurrezione del 25 aprile, all'elezione dell'Assemblea Costituente. A quel punto il secondo risorgimento ha completato il primo e si è fatta una Costituzione che resta il primo punto che l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Si è così passati con le forze del lavoro, con le forze che si battevano per l'emancipazione del lavoro, da sovversivi a protagonisti. Ma dopo pochi anni, le intemperie della guerra fredda, le resistenze degli imprenditori e degli agrari hanno portato a non rispettare la Costituzione, a non l'applicarla. Di Vittorio capì rapidamente che in questo Paese si aveva uno sviluppo che si tentava allora, come ricorrentemente nella storia dell'Italia, di basarlo sui bassi salari, su una protezione sociale abbastanza insignificante, su tanto sfruttamento. Gli operai italiani sono stati i braccianti italiani negli anni 50, un po' come gli operai cinesi di oggi. Pochi diritti, pochi salari, poche protezioni sociali e tanta produttività. E nell'Italia che si avviava il miracolo economico, si avevano degli scenari sociali impressionanti. Questo è stato l'unico Paese democratico in Europa sul quale ancora, dopo la resistenza e dopo la Costituzione, si continuò a vedere il sangue versato durante i conflitti sociali. E gli anni 50 furono anni terribili. E furono anni chiusi, con la rivolta dei giovani a magliette a strisce, a Genova, con i morti di Reggio Emilia, con la svolta che chiuse con quella stagione difficile e aprì prospettive politiche nuove. Cominciarono i primi momenti di unità d'azione tra i lavoratori, soprattutto tra i metalmeccanici. Il Natale in piazza degli elettromeccanici a Milano, 100.000 persone che si operavano, che manifestavano, era Natale, non si operavano, che manifestavano per rinnovare il contratto di settore, e il Cardinal Montini, che da dentro la Chiesa, recitando la Messa di Natale salutava coloro che si battevano per la giustizia sociale. E quei vent'anni ebbero dieci anni di repressione negli anni 50 e dieci anni di ricostruzione paziente della riscosso operaia, della conquista della contrattazione articolata, dei primi momenti unitari, dei grandi contratti e via via, fino all'esplosione dell'autunno caldo, che non nacque assolutamente come un fiore sbocciato da nulla, ma aveva radici profonde nei sacrifici di quegli uomini e di quelle donne, di quegli uomini e di quelle donne, che nel corso degli anni 50 e 60 tenero aperto una prospettiva democratica. E finalmente, sullo slancio dell'autunno caldo, lo statuto dei lavoratori. Di Vittorio, che ho detto, aveva intuito che tipo di sviluppo distorto andava ad avere il Paese, nel 49 propose il piano del lavoro, nel 52 lo statuto dei diritti dei lavoratori, sviluppo sì, ma con i diritti, perché capiva che un lavoro senza diritti, un lavoro senza riconoscimento, senza dignità, non è quel lavoro nel quale parla la Costituzione, il primo punto, ma è un'altra cosa. Ci vogliono dal 52 al 70, 18 anni, e finalmente la Costituzione è entrata in fabbrica, e dobbiamo dire grazie a tutti coloro che ci sono battuti, che qui vengono ricordati, e io vorrei dire due ultime cose. Riflettere insieme su quale Paese diverso poteva essere questo se la Costituzione fosse entrata in fabbrica fin dal 1 gennaio del 48, che diversa convivenza civile, che diversi sistemi di relazioni sindacali, che Paese più moderno e più civile, e con meno prezzi pagati, poteva essere questo. L'ultima cosa è riflettere oggi, perché queste sfide non sono finite, perché vi è ancora in questo Paese che la Costituzione vuole cambiarla, vi sono Ministri che propongono di cambiare il primo articolo, vi sono Ministri che propongono di stravolgere lo Statuto dei lavoratori, vi sono parti importanti di questo Paese a partire dal Governo, che non hanno rispetto per un corretto equilibrio tra i poteri dello Stato, che lavorano frequentemente per dividere anziché per unire, vi sono imprenditori che pretendono di scambiare occupazione con i diritti, perciò noi dobbiamo riflettere sulle conquiste fatte, su quanto questi sacrifici sono costati, e portarli avanti nell'affrontare i cimenti di oggi, nelle difficoltà che ci sono, e farlo perché le generazioni antiche lo ricordano, e perché le nuove generazioni sappiano quanto è costato conquistare democrazia e libertà in questo Paese. Grazie.